Bene signori, quest'oggi parliamo dell'ipocrisia femminile. Questa ragazza dice da donna i uomini si dice che i uomini vogliono solo quello e da uomo i uomini dicono che le donne sono tutte poco di buono. E la domanda è ma perché noi donne facciamo fatica a non darglielo al primo appuntamento? Non è forse che ci piace anche a noi? Diceva mia nonna, mica l'abbiamo su una mano che forse ci piacerebbe avere un uomo che ci sposi e che non ci faccia quello quindi che non ci porti solo a letto io sfido quella donna che al primo appuntamento non le viene chiesta e torna a casa felice e noi donne ci innamoriamo non del bello o del ricco ma di chi ci fa impazzire sotto le lenzuola personalmente penso che un po' più di sincerità con noi stessi ci farebbe altro che bene in qualunque modo la si metta. Allora il motivo è semplice il motivo per cui non riesci a dargli al primo appuntamento scusami, non riesci a trattenerti dal dargli al primo appuntamento è perché o sei presa dalla paura di perdere una persona o perché sei indotta in quanto sei cresciuta con un certo assetto a pensare che sia giusto fare così quindi dipende anche dal background di crescita per esempio puoi pensare che sia giusto dargliela al primo appuntamento perché è così che si fa perché lui ti ha portato a cena e ci sono donne che pensano questo oppure puoi pensare che sia giusto dargliela perché se no scappa perché ti senti di valore inferiore rispetto a lui quindi ci sono diverse cose che spiegano perché una donna non riesce a trattenersi al darlo al primo appuntamento tipo sei cresciuta in un background culturale che ne so dipende in realtà perché potresti essere cresciuta in un background straliberista tipo ah sì fai come ti pare eccetera e fare questa cosa che in teoria non è fare come ti pare cioè nel senso se tu ci vai a letto al primo appuntamento il motivo di fondo è che non conosci te stessa forse ok quindi cioè una donna che conosce te stessa e sa che magari si lega anche solo con lo scambio del bacio e il rapporto in sé e dovrebbe tendere a tenersi cioè nel senso il motivo è che quando tu vai a letto con un uomo e anche solo quando baci un uomo a volte potresti per assurdo iniziare a sentire il legame ok e la maggior parte dei casi è così perché si generano dei rilasci di ormoni che favoriscono la percezione di attaccamento di confronti con la persona non tutte le donne sono così se sei così come donna e quindi ti conosci lo sai che dopo che ci vai a letto poi ci vai in fissa allora ti conviene non andarci a letto punto si tratta solo di conoscere se stessi poi che la società e la cultura ci induca a pensare che sia giusto fare una determinata cosa non è detto che quella cosa sia giusta ok quindi più che ipocrisia femminile per quanto si possa pensare le donne sono ipokite perché magari poi sanno che cioè si lamentano che poi l'hanno solo usata però poi se vanno ad appuntamento sono contente che lui ci ha provato è proprio un gioco cioè nel senso bisogna accettare la charade quindi la mascherata la mascherata è che devi accettare che quando tu esci con un uomo quando tu frequenti un uomo stai semplicemente creando la possibilità che si verifichi il corteggiamento quindi il corteggiamento deve essere una danza cioè non si può pensare che il corteggiamento non sia una danza no? e la danza è impostata cioè non è che uno balla e danza a cazzo cioè si sa nel senso tu danzi in un modo la donna si è lasciata trasportare oppure trasporta eccetera quello che sia cioè è una charade è un teatro è una maschera la società in sé è piena di maschere ok? se non fosse così vivremmo come degli zii vabbè posso dire questa cosa vivremmo come degli animali no? ok? quindi visto che non viviamo come degli animali ci sono delle danze delle culture tra virgolette da rispettare delle fasi di corteggiamento da rispettare tu devi rispettare quelle fasi di corteggiamento perché se non rispetti ti fai molto male ok? ti tratta anche di sapersi gestire no? ah perché mi mangio la nutella cioè ieri per esempio io sono mangiato il burro da raghi per dirti mi sono addobbato il burro da raghi stavo male tutta la sera ho quel burro da raghi io mi devo controllare non mi sono controllato ieri sera ok? non ho controllato la mia mente e si tratta di sapersi controllare molte donne non si sanno controllare un po' come gli esseri umani cioè non sai fare la dieta cioè se tu sei grassa ok? tu non lo sei magari ok? ma se una persona è grassa quindi una donna è grassa non è che è grassa perché è colpa delle ossa grosse cioè è perché mangi bro ok? ah cioè se io sono poco muscoloso eccetera perché mi sono allenato male ho mangiato male ho dormito male e quindi non mi sono impegnato punto poi certo sono delle priorità nella mia vita non è che devo fare il bodybuilder nella vita però sicuramente c'è la priorità e al lavoro se io non raggiungo certi obiettivi è perché io non sto apprendendo alcune cose quindi io devo sapermi contenere cioè una donna deve sapersi trattenere così come un uomo cioè anche io mi devo saper trattenere se io sto all'interno di un rapporto stabile quindi all'interno di un rapporto di coppia io devo essere in grado di non andare con le altre ragazze e preservare la fedeltà la monogamia che ho giurato alla mia ragazza cioè altrimenti che sto facendo? tradisco una persona sì ok c'è gente che lo fa va bene se lo vivono bene però io la vedo in questo modo cioè la vedo come un sacrificio se vuoi trovare una persona di valore di saperti sacrificare se vuoi trovare un uomo che ti valorizzi devi essere in grado di non andarci a letto al primo appuntamento devi essere in grado di non dargliela e devi essere in grado di non fare quello che ti dicono le amiche le amiche vabbè ma che vuol dire non è così non è così perché se a una gli ha detto fortuna che c'è andata al bagno della discoteca la prima volta è diventata l'amica di letto oppure quella che faceva l'amante è diventata la moglie una su dieci dice bene le altre no che stanno piangendo dietro al bancone nel bar capito oppure stanno piangendo perché su google cercano che ne so lui mi ha lasciata proprio là quindi non si tratta di essere sinceri con noi stessi secondo me si tratta di conoscere se stessi cioè e sapere dove va incontro cioè dove va parare se io faccio una cosa ok devo accettarmi i rischi cioè se io accetto di andarci a letto il primo appuntamento quindi andare a letto con il primo appuntamento rischio so quali rischi corro so a che cosa vado incontro se la risposta è sì fai come ti pare se la risposta è sì come donna puoi fare quello che vuoi non serve che ti dispelli non serve che fai altre cose ok si tratta di sapere perché ti vuoi tenere dall'andarci prima trattenermi dall'andare a letto con un uomo al primo appuntamento mi aiuta a filtrare a trovare magari un ragazzo più interessato genuinamente interessato a me se la risposta è sì allora fa trattieni cioè si tratta di sacrificare cose della propria vita per ottenerne altre per ottenere risultati that's it semplice così ok bene spero di esserti stato utile per chi vede il video in descrizione attiva la possibilità di accedere al club riservato ad oggi non so se lo stiamo chiudendo quando vedrete questo video noi ci vediamo dopo